Il debutto di campionato al Palamegabox è cerchiato sul calendario per il 25 ottobre con la L84 Torino. Intanto però, con quasi due mesi d'anticipo sullo start, l'Ital Service Pesaro Calcio A5 lancia già una campagna abbonamenti che punta ancora di più a saldare la simbiosi fra squadra e tifosi. Abbonamenti che prevedono una promozione che consentirà di assistere all'intera regular season di 15 partite casalinghe al costo di appena 35 euro. Sì, un segnale importante dato dalla famiglia Pizza che ha voluto premiare la fedeltà del nostro popolo, della nostra comunità. 35 euro, gli under 18 addirittura entrano gratis al nostro palazzetto. Vogliamo riempire il palazzetto e vogliamo che, come nella seconda parte soprattutto della stagione scorsa, la nostra comunità sia davvero trainante per la squadra. Il sesto uomo in campo lo è stato la scorsa stagione e non ho dubbi che lo sarà anche quest'anno perché vedo del grande entusiasmo. I ragazzi che sono venuti sono ragazzi che sono qui perché hanno creduto in questo progetto e quindi ci sono tutte le condizioni, io penso, e tutti gli ingredienti giusti per fare insieme una bella stagione. Fidelizzazione dei tifosi che è uno dei tanti obiettivi messi sul tavolo nella conferenza stampa della società tenutasi al ristorante in piazzetta. Da Bordoni alla presidente Simona Marinelli fino al dirigente di lungo corso Giovanni Baldelli, un rinnovato patto di sostenibilità per il futsal pesarese che parte da un vivaio sempre più florido fino ad una prima squadra stabilmente competitiva. Abbiamo obiettivi importanti perché quest'anno abbiamo fatto delle scelte strategiche diverse dal passato, scelte che ci legano molto al territorio, scelte che ci legano anche al settore giovanile, ai ragazzi e scelte che ci legano anche a un sistema di sostenibilità che permetterà alla nostra squadra di rimanere nel tempo perché voglio ricordare con grandissimo orgoglio che delle squadre più titolate nella storia dell'Albo d'Oro, del futsal, probabilmente noi siamo l'unica che è rimasta e quindi abbiamo molta attenzione ai bilanci però anche molta attenzione a quello che è il popolo dell'Ital Service. Non a caso il nostro slogan quest'anno è You Ital Service e mai come quest'anno è proprio centrato rispetto alla comunità che rappresentiamo e che vogliamo rappresentare anche in questa meravigliosa stagione con questi splendidi ragazzi che oggi sono tutti qui nel 2024-2025 in cui l'Ital Service comunque dirà ancora la sua.